Amici di Marcosbox, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Un video questa volta non dedicato a nostri cari sistemi operativi GNU Plus Linux, non dedicato anche al mondo del software libero open source, ma dedicato al mondo Microsoft. Chi segue Marcosbox da tempo sa che il 99% degli argomenti trattati su Marcosbox sono argomenti riguardanti i sistemi operativi GNU Plus Linux e gli applicativi, quelli di software libero open source. Però ogni tanto non mi faccio mancare articoli dedicati anche al mondo Windows e al mondo Mac OS. Perché parliamo di mondo Windows su Marcosbox? Perché molti di voi sono costretti ad utilizzare i sistemi operativi proprietari Microsoft sia per lavoro, che per studio, che per svalgo. Tutti quanti, sfido chiunque di voi all'ascolto, che non faccia il programmatore, impiegati statali, impiegati nel settore privato, siete costretti, come sottoscritto, al 99% a utilizzare Microsoft Windows sui vostri computer. Io, per esempio, sono costretto ad utilizzarlo in tutti e due i lavori che faccio e sono costretto ad utilizzarlo anche quando lavoro da casa, quando faccio determinati tipologi di lavoro. Perché? Perché ci sono alcuni applicativi che girano, in maniera nativa, ovviamente, su Microsoft Windows, che sono difficili da emulare. Mi basti pensare ai software del Catastro, che sono difficilmente emulabili, che non generano errore su sistemi operativi Linux. Software come, per esempio, i software per le certificazioni energetiche, ad esempio. Quello si basa, quello gratuito, quello rilasciato dall'Enea, quindi realizzato con i soldi nostri, con i soldi pubblici, si basa su Microsoft Office. Quindi, se non avete una licenza di Microsoft Office sul vostro computer, non potete utilizzare questo software gratuito, rilasciato ufficialmente dall'Enea, per fare i certificati energetici. Se seguite Marcosbox, sapete che io ce l'ho anche passato del tempo a chiedere a quelli dell'Enea. Diverse volte ho chiesto di poter rilasciare una versione di questo software che non si poggi su Microsoft Office, però sono sempre stato snobbato. E quindi, come vi dicevo, sono costretto a riavviare spesso e volentieri sulla partizione Windows. E so che molti di voi sono costretti a utilizzare Windows per lo studio, sia dalle scuole superiori che per l'università. E moltissimi di voi, lo so di per certo, perché ci parlo con molti di voi che sono anche pinguini incaliti, che però quando devono videogiocare su Windows, sono costretti a riavviare su Microsoft Windows per poter giocare. Perché? Perché su Linux, sì, abbiamo una buona compatibilità con alcuni giochi. Addietro ci sono alcuni giochi che adesso, grazie a Steam, girano anche meglio, fanno prestazioni migliori su Linux, però ci sono una gran fetta di giochi che non sono compatibili con Linux, che sono provenienti, che ne so, da launcher, che sono diversi da Steam, tipo Epic, tipo giochi che appartengono dall'universo di Riot, giochi che, se fatti girare su Linux, non vi consentono di poter godere appieno dei giochi, soprattutto per quanto riguarda i giochi competitivi, che hanno dei sistemi anti-cheat particolari, che sono compatibili soltanto su Windows. E quindi, come vi dicevo, molti di voi, PC Gamer sono costretti ad utilizzare Windows per poter giocare, nonostante siano ping-wing incaliti e passano il 99% della giornata su Linux come sottoscritto. Quindi, una licenza di Windows serve sempre sui nostri computer, se non siamo, ripeto, programmatori, e quindi siamo costretti ad utilizzare per lavoro, per svargo o per studio, e anche una licenza, spesso e volentieri, di Microsoft Office in alcuni casi. E se siamo costretti ad utilizzare Microsoft Office, se siamo costretti ad utilizzare Microsoft Windows, perché non risparmiare sull'acquisto della licenza? Possiamo farlo, possiamo risparmiare sull'acquisto della licenza grazie a diversi siti che ci offrono delle licenze, quelle a volume, che provengono praticamente da un mercato grigio delle licenze, che sono licenze perfettamente legali e commercializzabili, che noi possiamo acquistare a un costo praticamente ridicolo rispetto al costo, quello della licenza vera e propria, sia di Windows che di Office, e che sono licenze a vita. Una volta che acquistate, voi potete utilizzare quante volte volete. Non sono licenze in abbonamento. Faccio un esempio con Microsoft Office 365, che spesso e volentieri noi acquistiamo, io lo utilizzo per esempio Office 365 normalmente, e in quel caso sono costretto a pagare un abbonamento annuale. Mentre qui, come potremmo vedere fra poco, sono licenze che noi una volta che acquistiamo, acquistiamo una volta e lo possiamo utilizzare quante volte vogliamo, per quanto tempo vogliamo, senza doverlo stare a rinnovare la licenza. E qualche settimana fa sono stato contattato da uno di questi siti, il sito in questione è casefun, casefun.com, che mi ha proprio su una collaborazione per il blog. Vi lascio anche la descrizione, questo è un post sponsorizzato, ve lo dico fin da subito. Mi hanno contattato e mi hanno convinto a fare una sponsorizzazione per il blog. Io ne ho anche discusso con voi della community Telegram di Marcos Box per avere un vostro appoggio morale per questo post, perché so che molti di voi si saranno anche inalberati quando hanno sentito ciò che Marco parla di Microsoft Windows. Però, come parlato, come detto anche nella community Telegram, molti di voi sono costretti a utilizzarlo, quindi un servizio come casefun consente di avere anche un vantaggio per voi. E che cosa offre casefun? Come vi dicevo, offre delle licenze per Windows, per Office, ma anche per altri applicativi, che in questo periodo poi offre anche degli sconti particolarmente allettanti. Si parla del 50% su Windows e del 62% sulle licenze Office. Come funziona casefun.com? Voi basterà recarvi sul sito internet casefun.com, vi lascio il link referral e utilizzare uno dei miei codici per poter acquistare una licenza di siti Windows che è di Microsoft Office che potete prendere anche per esempio la combo che pretende il pacchetto quello Office più Windows quindi avendo uno sconto particolarmente interessante. Gli sconti sono del 50% che vi dicevo su Windows e del 62% su Office e sul pacchetto quello combo. Come funziona? Mettiamo il caso di voler acquistare che ne so, una licenza di Microsoft Office. Qui possiamo vedere quali sono le versioni di Office che sono disponibili. Partiamo dal 2016 2019-2021 e come possiamo vedere ci sono anche licenze per Mac quindi se siete utenti di MacOS potete prendere una licenza a basso costo anche per sistemi operativi Mac. Per esempio vogliamo prendere che ne so, una bella licenza una bella licenza diciamo è una propria cosa vogliamo prendere una licenza di Office 2021 Professional Plus per la nostra postazione. Quindi andiamoci a copiare il codice Mar 62 il codice sconto e clicchiamo su acquista. verremo dirottati sul sito di casefund.com come potete vedere il prezzo è pieno di 76,18 aggiungiamo la licenza di Microsoft Office 2021 Professional Plus andiamo nel carrello e andiamo a applicare il codice sconto. Incolliamo il codice che abbiamo copiato prima applichiamo il codice sconto e come potete vedere la licenza sarà scontata del 62% quindi potremo acquistare Office 2021 Professional Plus con licenza vita a 28,95 euro. Quindi una volta fatto procediamo al checkout e acquistiamo la nostra licenza. Il sito è anche un sito sicuro ne parlano diversi youtuber ne parlano ci sono anche tante recensioni positive come possiamo vedere su Trustpilot loro offrono anche un sistema di soddisfatti rimborsati hanno un'assistenza 24 su 24 7 giorni su 7 che vi aiutano nella fase di acquisto nella fase di di attivazione della licenza e in caso di problemi vi fanno anche volendo il rimborso della licenza che avete fatto se avete se proprio non riuscire ad attivarla non lo so per quale in qualsiasi voglia motivo potete avere il rimborso basterà scrivervi e provvederanno a effettuarvi il rimborso quindi andate sul sicuro ne parlano tutti quanti bene quindi è un sito che c'è da diversi anni e quindi perché no perché non utilizzarlo perché non come si dice dalle mie parti si dice spragni e cumbarisce quindi risparmiamo risparmiamo attivamente acquistando una licenza su casefun.com e facciamole bene al nostro portafoglio e ci sentiamo anche meno sporchi ad aver acquistato Windows ad aver acquistato Office per tutti noi pinguini incaliti come vi dicevo oltre a la possibilità di acquistare prodotti Microsoft ci sono anche altri applicativi che possiamo vedere qui ci sono anche che ne sono Adiguard iObit PDF Pro 3 ci sono tanti altri software che possiamo acquistare non sono in scondo come Windows e come Office però comunque hanno dei prezzi anche in questo caso che sono molto appetibili quindi vi ricordo se volete acquistare licenze Office e licenze Windows a costi bassi casefun.com utilizzando il mio codice referral e il mio codice sconto quindi se volete supportare il blog potete farlo anche in questa maniera lunga vita e prosperità a tutti quanti ci rivediamo in un prossimo video parlando magari di qualche altro argomento sia del mondo del software libero che del mondo Windows quindi sapete ormai si spazia di tanti argomenti su questo canale ciao ciao a tutti quanti grazie a tutti